Forse per superare Kosicki e il Catania e Pirlo ci prova. Sul calcio di punizione ed è così! 1-1, 22esimo minuto, primo gol in campionato con la mano. Non segnava in campionato da oltre un anno. E questa realizzazione... Potrebbe anche trovare la porta. Pirlo! Un gol incredibile, pazzesco, straordinario, ma come ha fatto? La sua panchina, ma attenzione, Turam Nedve lo spazio, si gira il sinistro. Il gol del 2-0 al 33esimo minuto. Spariti i malanni e ancora in campo segna il suo sesto gol in questo campionato. Ecco il sinistro imparabile. Nedvedo. Conclusione, Nedve! Grande gol di Pagli Nedvedo! Del Piero! Tirati del Piero! Confia la letto! Alex del Piero! La sua classe!